Papà se n'è andato. Non è andato via, tesoro. E' meglio se non viviamo più insieme. Era ora che lo sbattessi fuori, è un fallito. Questo è il ritratto di Walter Black, un individuo irrimediabilmente depresso. Da qualche parte dentro di lui c'è ancora l'uomo che si è innamorato, si è fatto una famiglia. Che cos'hai lì? Un cervello per te. Mamma ha detto che il tuo si è rotto. Purtroppo ora, quell'uomo è scomparso. Nonostante tutti gli sforzi, Walter non riesce a riprendersi. Fai schifo, sono malato. Non vuoi provare a stare meglio? Ma tu chi sei? E io sono Mr. Beaver, Walter. E sono qui per salvare la tua maledetta vita. La persona che vi ha consegnato questo biglietto è in cura presso l'illustre Mr. Beaver, scopo della terapia e il raggiungimento di un distacco psicologico tra il paziente e gli aspetti negativi della sua personalità. È uno scherzo, vero? No figliolo, è un nuovo inizio. Vi comunico che Walter ha deciso di dimettersi e nominare me al suo posto. Dai un'occhiata. È un castoro? È il futuro. È maggio, ma sembra Natale, viste le vendite esorbitanti di Mr. Beaver. Ho avuto molta pazienza, ma io voglio te, non il popazzo. Quell'uomo è arrivato al capolinea, è morto! Io voglio papà. Lo so, Harry. Quando ero piccolo, tutto quello che desideravo era essere come te. Poi, crescendo, desideravo solo essere diverso. Lo so. Da dove cominciamo? Dalla parte migliore.